Sei pregiudicati legati al clan barese, misceo, telegrafo, sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati del pestaggio di un DJ 42enne colpito anche con una mazza da baseball per una partita di droga non pagata da un suo conoscente. L'episodio avvenne nel febbraio scorso e l'uomo riportò ferite e lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Le accuse sono di tentativo di estorsione, violenza privata, lesioni personali, detenzione e cessione di stupefacenti. Il blitz è scattato nella notte. Numerose perquisizioni nel quartiere San Paolo, Bari. In manette sono finiti Alessandro Ruta, Nicola Tanzi, Vincenzo Mastro Giacomo, Tommaso Petrone, Cristian Cucumazzo e Giorgio Picca. Tutti pregiudicati e accusati a vario titolo di tentata estorsione aggravata dall'aver favorito l'attività di un'associazione di tipo mafioso. Violenza privata, nonché lesioni personali, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, aggravate in quanto commesse da elementi sottoposti alla sorveglianza speciale. All'operazione hanno partecipato decine di militari con l'ausilio di unità cinofile antidroga. Il DJ, incensurato anche lì residente al San Paolo, era stato condotto da Picca, suo vicino di casa, nel ritrovo degli uomini legati al clan Mischio Telegrafo e presentato come suo socio nell'acquisto di 10 grammi di cocaina per un valore di 600 euro. Da qui l'inizio del calvario del giovane, in quanto Picca, reale acquirente dello stupefacente, non ha mai pagato il bebito contratto, scaricando su di lui la responsabilità del mancato pagamento e suscitando le ire del branco. Tante le minacce subite fino a passare le vie di fatto, culminate in un violento pestaggio nel ritrovo dei malviventi, conosciuto nel quartiere San Paolo con il nome di Tana delle Tigri. Per cercare di cancellare le prove, a loro carico addirittura Cucumazzo, si sarebbe recato nell'abitazione della vittima e dopo averla minacciata si sarebbe fatto consegnare i referti medici che attestavano le lesioni. Il DJ però denunciò tutto ai carabinieri che sono riusciti a ricostruire l'intera vicenda.